Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto di sicuro interesse per voi con Rezzonico Auto concessionaria Opel. Un saluto a Mario, ciao Mario. Ciao Rosi, buonasera a tutti. Con lui parleremo dopo e ora la parola a Vittorio Rezzonico, a te. Ciao Rosi, buonasera anche da parte mia. Questa sera innanzitutto vediamo il bentornato da Rezzonico Auto, ma vi aspettano delle offerte imperdibili. Quindi riparleremo di super rottamazione e davvero super rottamazione con contributi eccezionali e finanziamenti super agevolati e questo è anche il mese delle chilometri zero. Per cui cominciamo subito, non perdiamo altro tempo, andiamo a scoprire le offerte di questa sera. Ritorno alla super rottamazione Opel su nuova Opel Corsa Black Edition, nuova promozione rottamazione e nuovo prodotto, nuova Opel Corsa. Questa sera vi presento una 1200, nell'allestimento tre porte, grazie a un contributo Opel Rezzonico Auto che poi vi dirò la fine prezzo. Questa vettura completa di tutto, tetto bicolor, cerchi in lega da 16, fari fendinebbia, bluetooth, crease control, limitatore di velocità, pedaliera sportiva con interno sportivo, porta USB, vetri posteriori oscurati, Black Edition 1200 o allestimento Innovation, con il contributo Opel Rezzonico Auto fino a 6.000 euro di sconto rottamazione, può essere vostra a partire da 9.950 euro. Prezzo incredibile, ma vogliamo aggiungere una cosa strepitosa. Trepitosa. Vittorio ci fa un regalo anche questo mese, nonostante lo sconto rottamazione esagerato. Sì Mario, perché solo da Rezzonico Auto, questo mese, su Corsa, anche sulla nuova versione Black Edition, novità 2018, Rezzonico Auto vi offre il finanziamento a tasso zero. Sì, avete sentito bene, oltre a 6.000 euro di super rottamazione, tasso zero, macchina vera, così completa come diceva Mario, modello nuovo Black Edition da 9.950 euro. Venite presso una delle nostre sedi a scoprire la nuova Corsa Black Edition. E parlando di offerte, questa sera vi voglio presentare Mokka X. Alla mia sinistra, questa bellissima vettura, allestimento Advance, 1.6 benzina, completa di tutto. Cerchi in lega da 17, fari fendinebbia, volante in pelle, bluetooth, cruise control, limitatore di velocità, porta USB, assistenza in salita, monitor a 7 pollici per gestire le tue applicazioni e il tuo telefono. E come tutte le Opel, Opel All Star, il tuo assistente personale. Pensate, questa sera, un'offerta eccezionale. Grazie a un contributo Opel e Rezzonico Auto, fino a 6.000 euro di sconto rottamazione. Ma non solo, questo sconto è per tutti. Sì, signori, per tutti sconto fino a 6.000 euro. Questa vettura può essere vostra a partire da 16.900 euro. Open Mokka a partire da 16.900 euro. Per chi volesse qualcosa in più, abbiamo allestimento Innovation. Ha qualche dettaglio particolare in più. Cerchi in lega da 18, vetti posteriore oscurati, climatizzatore automatico bizona, l'interno misto pelle e tessuto, sensori anteriori e posteriori di parcheggio. Venite a scoprire le offerte da noi. Continuiamo con Gamma X di Opel, nuovo Crossman questa sera, allestimento Advance, completa di tutto. Monito a 7 pollici, Bluetooth, cruise control, limitatore di velocità, assistenza in salita, porta USB, 4 vetri elettrici. Veramente completa. Per chi volesse qualcosa in più, abbiamo anche l'allestimento Innovation. Ma venite a trovarci. Il mese scorso vi abbiamo parlato di un'offerta strepitosa. Questa vettura, con la superottamazione, la portavate a casa a 14.900 euro. Ma Vittorio ci fa un regalo strepitoso questo mese. Ascoltateci. Sì Mario, perché questo mese, su Crossland, superottamazione Opel, che supera 5.000 euro, avete sentito bene, più di 5.000 euro, vi permette di avere la vettura, la mia sinistra, a partire da 13.900 euro. Prezzo vero, questa vettura qua, che ha descritto Mario, da 13.900 euro. Solo per poche unità disponibili, correte in concessionaria presso una delle nostre sedi e scegliete la vostra nuova Crossland X. Vi aspettiamo. E questa sera Grandland X, il grande SUV di Opel. Dopo lo strepitoso successo dei mesi precedenti, ve lo riproponiamo questa sera. Allestimento Advance, una vettura veramente completa di tutto, dal cerchio in lega da 17, i fari fendinebbia, il climatizzatore automatico bizona, i sensori anteriori e posteriori di parcheggio, l'assistenza in salita, i 4 vetri elettrici, il bluetooth, quiz control, limitatore di velocità, monitor 7 pollici per gestire il telefono, la tua rubrica contatti, eventualmente il navigatore tramite l'applicazione. Superamento involontario del limite di carreggiata, già compreso di serie su questa bellissima vettura. E sentite bene, questa sera, grazie a un contributo Opel e Rezzonico Auto, fino a 6.000 euro di super votazione del tuo usato, Opel Grandland X può essere vostro a partire da 21.900 euro. Questa sera vogliamo dare dei prezzi veri, il prezzo vero per questa macchina è che, al prezzo che ha detto Mario, da Rezzonico Auto e solo da noi, avete il diesel allo stesso prezzo del benzina. Sì, avete sentito bene, un Grandland X Advance a 21.900 diesel, pronta a consegna, solo su alcune vetture disponibili. Venite subito presso una delle nostre sedi e vi ricordo ancora che a marzo siamo sempre aperti. Venite a scoprire il vostro Grandland X a partire da 21.900 anche diesel. Andiamo avanti con le offerte del mese. Ecco il mini SUV di Opel, la nuova Car Rocks, un successo incredibile. In soli 3,70 m, tutta la tecnologia di Opel. La vettura, la mia destra, è completa di tutto. Con il massimo della sicurezza, airbag, ABS, SP, climatizzatore, radio con Bluetooth, cerchi in lega, fenninebbia, vetri elettrici, retrovisori elettrici riscaldati, servo sterzo con City Mode, veramente il massimo. Ancora per questo mese è vostra a soli 10.400 euro, grazie a un contributo Opel e Rezzonico Auto, per cui 10.400 euro per il massimo. Vi ricordo che Car Rocks, come tutta la gamma Opel, da Rezzonico Auto, è disponibile in pronta consegna. In particolare questa vettura, anche nelle motorizzazioni benzina, GPL, con cambio manuale o automatico. Disponibile in pronta consegna da Rezzonico Auto, per cui affrettatevi perché le ultime unità a 10.400 euro stanno finendo. Continuando con le novità, questa sera vi presento Opel Adam modello 2018, prodotto nuovo, allestimento GEM, questa vettura completa di tutto, climatizzatore, volante in pelle, Bluetooth, cruise control, limitatore di velocità, cerchi in lega, assistenza in salita, porto USB, veramente completa questa vettura. Questa sera ha un incredibile prezzo. Grazie a un contributo Opel e Rezzonico Auto, fino a 4.000 euro, Opel Adam, questa bellissima chicca di vettura, può essere vostra a partire da 9.950 euro. Sì, gamma Adam a partire da 9.950 euro. E continuiamo con le offerte con Opel Astra Sport Tourer. Alla mia destra questa sera allestimento Innovation, una vettura veramente completa, ma veramente completa di tutto, con climatizzatore automatico, l'interno misto tessuto pelle, cerchi in lega da 17, fari fendinebbia, fari diurni a LED, specchietti a regolazione elettrica, Bluetooth, cruise control, limitatore di velocità, navigatore integrato e come tutte le Opel, Opel OnStar, il tuo assistente personale, questa vettura meravigliosa, così spaziosa, potrebbe essere vostra a un prezzo incredibile. Però vi voglio dire un'altra cosa, gamma Opel Astra, 1000, Dynamic, questo mese, grazie a un contributo Opel, rezzonico auto, fino a 6.000 euro, può essere vostra a partire da 14.900 euro. Opel Astra a partire da 14.900 euro. Proseguiamo con le grandissime offerte delle nostre vetture a chilometro zero, questo mese veramente forte. Andiamo. Partiamo subito, nuova Opel Adam, modello gem, completa di tutto, con tetto bicolore, cerchi in lega, touchscreen 7 pollici, fari di marcia LED, vettura veramente super accessoriata, a soli 11.000 euro per questo mese, chilometri zero. Passiamo a una buona disponibilità di corsa, bicolor, in questo colore argento metallizzato, quindi abbiamo il tetto nero, cerchi diamantati da 17 pollici, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, touchscreen 7 pollici, doppia alimentazione e benzina GPL, solo per questo mese, chilometri zero a 12.000, 12.500 euro. Avete sentito bene, 12.500 euro per questa vettura iper accessoriata. Un'altra corsa, sempre GPL, nel modello Advance, con i fennebbia, massima sicurezza open, radio con bluetooth, servo sterzo, comandi radio al volante, a soli 11.700 euro. Ma non è finita qui, per quanto riguarda corsa, abbiamo anche una bicolor benzina, in questo grigio medio, satin steel, sempre con i cerchi in lega, il tetto bicolore, il touchscreen, volante in pelle, multifunzione con i comandi al volante, radio e cruise control. Vedete i posteriore oscurati, a soli 11.400 euro. Sì, proseguiamo con Crossland. Questo mese, vedete appunto questo modello bellissimo, Advance, grigio scuro, 1.600 diesel, 100 cavalli, all'incredibile prezzo di 16.900 euro. Una vettura veramente completa di tutto, climatizzatore, monitor sette pollici, bluetooth, cruise control, assistenza in salita, superamento involontario dei limiti di carreggiata. Veramente è una vettura completa. Passiamo alla versione Innovation, la versione Glamour, la versione proprio più accessoriata di tutte. Questa vettura qua, 1.2, 110 cavalli, benzina con cerchi in lega al 17 bicolor, fari fenninebbia, interno misto pelle e tessuto, clima automatico bizona e tutti gli accessori che ha anche Advance, all'incredibile prezzo di 18.600 euro. E non vi ho detto una cosa, la sorpresa di questa vettura? C'è anche il navigatore questa vettura qua. Opel Mokka, chilometri zero, vari colori, vari allestimenti a partire da 17.500 euro. Veramente vettura completa di tutto. Sensori di parcheggio anteriore e posteriori, specchietti richiudibili e quant'altro. Vettura veramente completa di tutto. Questo mese le chilometri zero vi aspettano. Abbiamo una buona disponibilità, ma quel mese scorso vanno via molto velocemente. Vi ricordiamo che siamo aperti tutto il mese di marzo, quindi anche le domeniche e vi aspettiamo per scegliere la vostra prossima Opel tra una vettura nuova con la superottamazione Opel fino a 6.000 euro o una chilometri zero che venga incontro alle vostre esigenze. Vi aspettiamo, grazie, buona serata. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.